Buonasera dalla redazione di Roma Daily News. Nella mattinata odierna due romani con precedenti sono stati arrestati perché colti in flagranza nel tentativo di consumare una rapina all'interno di una banca in zona EUR. Gli arrestati, ai quali sono stati contestati i reati di tentata rapina in concorso Porto abusivo di armi e ricettazione, sono stati trasferiti presso il carcere di Regina Celi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Metro C ha deciso, nell'interesse della città, di riprendere i lavori legittimamente sospesi nel dicembre scorso, nonostante risulti ancora accreditrice di Roma metropolitane per oltre 200 milioni di euro. Passiamo allo spettacolo. La Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica si trasformerà in uno dei più grandi luoghi di cinema della capitale e accoglierà anche anteprime ed appuntamenti legati al mondo cinematografico. Oggi la presentazione.